Ma da bambino ti piaceva stare a Palombaro? Come no, mi piaceva stare a Palombaro, mi piaceva stare a Fara San Martino, quindi la festa dell'Assunta, poi c'era a Fara San Martino la grande festa con la banda, c'era ogni tanto, io ricordo, fra i tanti ospiti delle feste che facevano alla Fara, c'era Rita Pavone, poi ricordo per esempio le giostre, ricordo quel che si andava a Bocca di Valle, tutti i paesini, La Penna, Faracipollara, ricordo le vacanze a Francavilla al Mare, ma poi andavamo a Vasto, a Tollo, l'Abruzzo lo conosco, quando andavo io a Sulmona a sparare per il militare, facevo il militare, si faceva l'addestramento delle reclute, andavo alla Marana, alle Marane di Vasto e poi sparavamo d'estate invece a Sulmona, quindi partendo da Chieti, le mangiate con i camerati, i militoni che facevamo a Chieti Scalo, è una regione che mi è vicina, vuoi per distanza da casa, ma vuoi perché ho tantissimi parenti qua. Grazie a tutti!